Quanto è grande? Un ettaro? Più o meno? Sono 9.000 metri quadri. Vorremmo utilizzare sempre più alberi, comunque per andare a ombreggiare l'estate. Noi purtroppo siamo in carenza idrica grossa, non sta piovendo. Questo aiuterà a tenere l'acqua nelle radici. Mi dispiace se controllo il terreno, sentirlo a mano mi aiuta molto a capire meglio. Prego, prego. Molto argilloso, è come se fosse argilla, proprio argile. Wow, sabbia argilla. Sì, a mano si riesce proprio a sentire. Tenete presente che all'inizio tutto è una sfida. Sì, va a lavorare. Però il terreno si presenta molto bene, mi piace molto anche la disposizione dei campi. Riesco già a vedere un favoloso Market Garden in tutta la sua empicità.